Buongiorno a tutti, il video di oggi va a rispondere ad alcuni quesiti postemi da alcuni utenti sull'analisi complessiva dei film di guerra. In un video precedente, circa un mese e mezzo fa, vi ho descritto alcuni volumi che analizzano la storia del cinema bellico, e in uno specifico la storia del cinema della Seconda Guerra Mondiale per comprenderne un po' le dinamiche, le evoluzioni, le tendenze. In questo video invece do un taglio diverso, un taglio molto mio personale, che poi è il frutto, la causa e l'effetto dei video che vi ho presentato fino ad oggi. Lo studio della Seconda Guerra Mondiale, che è un po' l'oggetto della mia passione, della mia attività anche professionale, mi ha portato a una classificazione della cinematografia bellica nei vari momenti. E di conseguenza io ho stilato una mia classificazione, una mia tassonomia, se vogliamo, mia personale, appunto, che non ha nulla di assoluto, nulla di definitivo nella classificazione stessa di questo genere, e si vuole un po' così elencare. Io ve lo leggo, questo è, senza non voglio far pubblicare, in senso che questo vi dico da dove lo prendo, questo è un volume che ho scritto io e che nell'ultimo capitolo, appunto, parlando della Seconda Guerra Mondiale, analizzo queste tipologie di classificazioni. Allora, io ho suddiviso i film di guerra sulla Seconda Guerra Mondiale in la filmografia di propaganda e coeva, poi vi andrò a spiegare l'uno per l'altro, il cinema patriottico, il cinema narrativo, il cinema eroico ironico, il cinema antimilitarista, commedia e grottesco, la cinematografia bellica del nuovo millennio. Allora, come i più attenti utenti, i più attenti spettatori di questo mio canale sanno che nella descrizione dei film di guerra io, appunto, ho dato un significato non solo artistico, ma anche riferito al contesto socio, culturale, economico, politico che i vari decenni possono aver evidenziato. Quindi, innanzitutto, si può dire come la cinematografia sulla Seconda Guerra Mondiale è iniziata addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, se non addirittura prima, sembra un paradosso, però, in effetti, se consideriamo come negli anni Trenta già era evidente, ai più lungimirante, come vi potesse essere il rischio di una Seconda Guerra Mondiale dopo, appunto, la Grande Guerra, che veniva comunemente definita la Guerra Mondiale punta e basa senza prima, appunto, sarebbe stata la prima se ci fosse stata una seconda. Però, appunto, già alla fine degli anni Trenta, alcune pellicole che, se non definivano in maniera precisa, ovviamente, gli eventi bellici, perché ancora non erano stati sviluppati, però paventavano dei futuribili conflitti, sia in Europa che nel mondo intero. E questo è molto interessante, perché ci dà la percezione di come il cinema, molto spesso, anticipa anche gli eventi. Se, per esempio, pensiamo al film Il Grande Dittatore, che è del 1940, ma che ha avuto una sua evoluzione, quindi, diciamo, precedente anche alla stessa avanzata tedesca in Occidente, ma, se vogliamo, anche dell'attacco tedesco verso la Polonia, questo film ci evidenzia, appunto, come già all'epoca vi potessero essere tutti gli sviluppi per un'analisi di alliello cinografica della guerra. E questo si andò a sviluppare per tutta la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente vi era una inevitabile considerazione anche di propaganda, cioè lo sviluppo, la descrizione di un film di guerra calato all'interno del tentativo di informazione, di propaganda dei vari paesi, delle varie società, sia di quelli cosiddetti democratici che di quelli a regime dittatoriale o totalitario avevano, ovviamente, una finalità per cercare di coinvolgere il più possibile, soprattutto nei momenti di grave crisi politica militare. Questo lo vediamo, per esempio, tutta la cinematografia legata alla Gran Bretagna, durante anche la battaglia d'Inghilterra, che poi andava a braccetto tra l'aspetto documentaristico e quello di finzione effettiva. Quindi vi sono, per esempio, alcune pellicole che hanno questo connubio tra elementi reali di descrizione, di documentaristi, appunto, di immagini vere, con invece scene in studio. E questo abbraccia sia la cinematografia classica che, per esempio, anche quella di animazione. Vi sono tutta una serie di cartoni animati, tra cui, appunto, quello italiano molto famoso su Cercillone, che è appunto una sorta di Mr. Dottor Jekyll, in cui Cercill veniva, appunto, etichettato come uno sciagallo, un approfittatore, oppure quelli di parte alleata. C'era un film su Paperino, appunto, che andava a descrivere la società nazista in maniera, appunto, critica. Adesso non vi farò tutti, non vi elencherò una serie di film, magari poi, se questo video avrà un successo, magari farò un video specifico per ognuna delle sottogeneri della cinematografia sulla Seconda Guerra Mondiale. E questa evoluzione ha avuto, appunto, una sua natura, una sua fortuna, in vari ambiti, appunto, l'Italia non fece eccezioni, mi furono film di Rossellini, la prima, la cosiddetta trilogia della guerra fascista, ma anche tutta una serie di film, in Eren, che mi viene in mente la battaglia di Gerabub, quindi tutta una epopea che potesse, nel bene o nel male, descrivere e supportare le forze armate. E questo vale, appunto, per tutti i paesi, appunto, la Germania non fece eccezioni, gli Stati Uniti non fece eccezioni, sicuriamo che in 1945 ancora la guerra nel Pacifico non era finita, siamo, appunto, nella primavera estate, venne girato e poi distribuito obiettivo Burma con Errol Flynn, che creò anche un certo dissapore con gli inglesi perché, appunto, dava una certa tendenza a definire gli americani come onnipresenti, come, appunto, risolutori anche nel contesto dell'Indocina. E questo è un elemento molto interessante perché, appunto, poi si andava un po' ad alimentare anche i rapporti di forza nella geopolitica postbellica anche attraverso il ricorso ad Hollywood. E questo è un elemento importante perché poi si parlava molto spesso di una guerra accennando a un'altra guerra, quindi anche con un collegamento molto interessante. Vedremo come nel periodo della guerra di Corea, 50-51, vi fossero delle pellicole che guardavano un po' alla Seconda Guerra Mondiale, poi, però, guardando alla Corea. Come del resto era stato fatto con il Sergente York nel 41 che si parlava della Prima Guerra Mondiale quando, appunto, si voleva intendere un impegno americano nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco quindi come l'evoluzione del cinema coevo o di propaganda poi è andato via via scemando verso un genere più narrativo che potesse guardare ai reduci e farli riflettere, farli ricordare e far riflettere soprattutto la popolazione civile che magari non aveva vissuto tutte le esperienze drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Questo lo si nota, per esempio, in una serie di film come, per esempio, Bastogne o i Forzati della Gloria che, appunto, alla fine degli anni Quaranta andavano a descrivere in maniera molto semplice, molto molto spicciola, senza eroismi esasperati, il tentativo, appunto, di rappresentare la guerra come una guerra di gente comune che andava, un po', nello stesso periodo, a un po' a cozzare con un altro tipo di genere che stava piano piano emergendo, che è un po' il figlio del genere di propaganda che era quello patriottico. Abbiamo sempre, nello stesso periodo, pellicole come, per esempio, negli Stati Uniti, Iwo Jima, Deserto di Fuoco, con il mattatore John Wayne che, che fosse nel genere western o che fosse nel genere bellico, rappresentava la quintessenza della forza, dell'essere virile della società americana. E questo genere patriottico ebbe dei riflussi anche nei paesi sconfitti, per esempio in Italia e in Germania. Questo è un elemento molto interessante negli anni Cinquanta per andare a scardinare quella convinzione, quella vulgata, che in parte era però vera, sul fatto della apoliticità delle forze armate. Quindi tutti i film, per esempio, tedeschi legati all'attentato ad Hitler del 20 di luglio del 44 e ne vennero fatti diversi alla metà degli anni Cinquanta, o per esempio in Italia pellicole legate a una cosiddetta tendenza di italiani brava gente, vi sarà un film che ha lo stesso, questo omonimo titolo, oppure film legati ad Alamein in cui si voleva asciugare la motivazione totalitaria, la motivazione fascista di espansione in Africa o in altre zone, nel caso di italiani brava gente in Russia. E in questo senso si voleva dare un connotato molto più umano, molto più tecnico all'evento bellico. E questa evoluzione, che appunto avrebbe proseguito, sarebbe proseguita negli anni, quindi non vi sono delle cesure nette tra questi generi, ci sono delle coabitazioni in cui appunto il genere, per esempio, narrativo, pensiamo a film molto asciutti, molto tecnici da questo punto di vista, in cui si andava a descrivere in maniera anche di Tascali, ad esempio parliamo dell'operazione Cicero, in cui non è un film bellico in senso tecnico, ma appunto andava a descrivere lo spionaggio all'interno della Seconda Guerra Mondiale, ha una sua connotazione molto interessante, anche finalizzata per certi aspetti, dove il rapporto tra la Germania sconfitta e i paesi delle democrazioni occidentali si andava molto più addolcendo. Pensiamo ai film tedeschi tipo Roma e la Volpe del Deserto, o altri sempre sulla campagna del Nord Africa, in cui gli inglesi tendevano una sorta di mano ai tedeschi, ormai erano passati dieci anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il nemico per la Germania occidentale, come per la Gran Bretagna, come del resto per gli Stati Uniti, ormai era l'Unione Sovietica, quindi in qualche modo si andava a recuperare l'ex alleato e dargli una dignità militare, una dignità di onore militare e si andava appunto a dimenticare le motivazioni ideologiche, razziali e tutto quello che ne consegueva del regime nazista. Ecco quindi come l'evoluzione di queste tendenze, di queste interpretazioni della Seconda Guerra Mondiale si andarono evolvendo negli anni Sessanta, dove appunto proseguì un genere patriottico, in cui si andava anche ad esaltare dei momenti fondanti, dei momenti rigenerativi dei vari eserciti, soprattutto quelli che poi avevano perso appunto, pensiamo appunto all'idea del rinnovamento antinazista tedesco con l'attentato del 20 luglio, ma per esempio tutta una serie di pellicole come Tutti a casa o alcune pellicole che si innestavano negli ultimi strascichi del neorealismo e andavano a toccare elementi anche della commedia dell'italiana che appunto andavano a rivedere come la guerra di liberazione, i partigiani, l'esercito del Sud fossero la vera natura, il vero rinnovamento dell'Italia e questo è molto interessante anche per una rappresentazione e autorappresentazione di alcuni paesi appunto come la Germania, l'Italia ma anche il Giappone che tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio e gli anni Sessanta ebbero una grandissima fioritura anche economica appunto con i cosiddetti boom economici di quel periodo. Nel frattempo la cinematografia si è evoluta, ha avuto degli imprevisti delle contaminazioni, come dicevo la commedia ha dato spunto per un riesame, ormai la guerra era passata da 15-20 anni, vi era anche il desiderio di essere più frivoli, passate mil termini più leggeri nella descrizione e che si potesse anche offrire una chiave diversa. Ecco quindi come a partire dai primi anni Sessanta vi è il cosiddetto, quello che io lo chiamo, il genere avventuroso, ironico, eroico in cui vi sono elementi classici del film di azione, quindi delle azioni anche legate ai commando, quindi azioni specifiche, però molto spesso in cui i protagonisti si lasciano un po' andare. Pensiamo a tutti i film come I cannoni di Navarone, quella sporca tozzina, La brigata del diavolo, Dove sono le acque, sono tutti i film, per non arrivare poi a I guerrieri, quindi tutti i film che hanno un aspetto molto forte di tipo produttivo, quindi con uno sforzo anche con attori molto importanti che avrebbero dato un taglio molto ampio, un successo, perché appunto erano attori in voga all'epoca, ma che permettessero anche di abbinare la violenza dei film di guerra a un certo sorriso, quindi riuscirà ad abbinare questi elementi. E questo aspetto si andò sempre più sviluppando negli anni 70 anche grazie all'influsso di un cinema, per esempio quello degli Spaghetti Western di Sergio Leone, in cui l'elemento trascinante dell'azione si andava ad abbinare appunto a un senso di divertimento, di ironia, che appunto era un elemento fondante della cinematografia, per esempio degli Spaghetti Western. Poi con contaminazioni sempre un po' più grossolane, vediamo come negli anni 70 veramente vi fu un'eccessiva anche produzione di film Western, ma di film di guerra, in cui veramente bastava avere un caro armato di qualsiasi tipologia che si poteva fare un film sulla seconda guerra mondiale, anche con risultati abbastanza grossolani e grotteschi, quindi però ci fu, perché tutta questa cinematografia di serie B, che appunto i cosiddetti B-movie, che poi avrebbero avuto un grandissimo successo, vennero rivalutati da Tarantino, per esempio pensiamo a Castellari, ma pensiamo a tutto un genere di violenza negli anni 70, vi fu il grandissimo sviluppo in Italia, per esempio dei poliziotteschi che facevano anche un po' il verso che si andavano un po' a contaminare con quelli americani, pensiamo appunto a Clint Eastwood, che univa insieme a livello proprio di produzione i film Western, i film bellici, i film di polizia, appunto i film di Sergio Leone, i film con Brian Atton, per esempio, Dove Rosano le Acque, I Guerrieri, i film dell'ispettore Callaghan, quindi ecco vedete come un personaggio come Clint Eastwood andava nello stesso grosso modo, negli stessi anni, a rappresentare l'aspetto iconico di tutti questi generi, che al contempo si andavano un po' a mescolare anche nell'ironia, e questo è molto interessante, però il punto sostanziale è che proprio negli anni 70 vi fu un certo riflusso, perché? Per via della guerra del Vietnam, che appunto venne percepita in tutto il mondo come una guerra negativa, con accezioni di critica sociale, il 68 aveva prodotto appunto delle agitazioni, un senso di insofferenza verso la guerra, ecco quindi come questo genere di film andò sempre più calando, e per certi aspetti si cercò di rinnovare con una cinematografia un po' più grottesca, che già in realtà era nata negli anni 60, pensiamo a film come quelli di Totò, i due colonnelli, per dire, ma anche nella cinematografia francese, con tre uomini in fuga, quindi tutta una serie di pellicole che abbinavano, esasperavano ancora di più la comicità, dove la comicità era l'elemento portante dell'argomento bellico, tutto il contrario di quello che dicevamo prima, dove vi era un connotato importante e dove c'era un'ironia, qui è esattamente il contrario, però non sempre queste pellicole vennero accettate, tant'è che per esempio anche lo stesso Spielberg che avrebbe fatto 1941, che fu un semi in successo perché appunto dopo la guerra del Vietnam, dopo il 68, la società americana non era pronta a parlare con così tanta leggerezza di un fatto così drammatico come la seconda guerra mondiale. Ecco quindi come all'inizio degli anni 80, nonostante veramente poche eccezioni, appunto ci troviamo dall'80 al 95 circa in questi 15 anni con relativamente pochi film sulla seconda guerra mondiale, in realtà ne avremo molti sulla guerra del Vietnam e questo sarà indicativo di un genere di rinnovamento, di ricambio generazionale, poi siamo nel periodo ancora di frizione tra est e ovest, tra Reagan e Gorbachev, quindi ci sono ancora anche i movimenti nazionalisti americani, avremo tutta la saga di Rambo o Top Gun, quindi tutta una serie di film che andavano a contestualizzare in scenari bellici completamente diversi da quella seconda guerra mondiale. Ci servirà Spielberg a partire dalla metà degli anni 90, inizialmente con Schindler List, un film che non ha una connotazione prettamente bellica ma è nell'ambientazione della seconda guerra mondiale e soprattutto il cinquantesimo anniversario dello sbarche in Normandia nel 94 da un nuovo impulso, offre nuovi spunti narrativi per altri film di guerra. Ecco quindi come nella seconda metà degli anni 90, a partire da pellicole come La Sottilia Niera Rossa e soprattutto Salvata il Sotto di Ryan, vi è un rinnovato interesse per la scenografia bellica. La scenografia bellica fatta bene, cioè con ricostruzioni adeguate, con un impianto sia di strutture che di storie, magari anche prese dal vero, quindi con spunti, pensiamo a Ambrose, che poi sarebbe stato molto criticato per una sua narrazione un po' edulcorata, però dava un po' lo spunto per questo tipo di pellicole e quindi iniziarono anche serie televisive, pensiamo a Band of Brothers, Pacific, tutta un'altra serie di film che seguirono il nemico alle porte, ma anche in Italia, pensiamo a El Alamein. El Alamein che è del 2002, che è la regia e la sceneggiatura di Enzo Monteleone che era lo stesso sceneggiato di Medierraneo del 90. Ecco, Medierraneo, lo stesso sceneggiatore, siamo in un contesto completamente diverso in cui lì la commedia era preeminente. Si parla della seconda guerra mondiale ma se ne parla in maniera molto burlona, dove sì si fanno delle riflessioni ma si parla della seconda guerra mondiale però con protagonisti che sono inevitabilmente ex sessantottini, quindi c'è un'altra tendenza per certi aspetti a divagare. Mentre El Alamein del 2002 parte da strutture, da contesti veritieri sulla seconda guerra mondiale con un'analisi, con uno studio molto approfondito e quindi da un'apertura completamente diversa, nonostante prenda grossomodo attori della stessa tipologia. In Medierraneo avevamo comici, avevamo Gigio Alberti, avevamo Diego Abbatantuono, avevamo tutta una serie di Claudio Bisio per dire, quindi attori comici e allo stesso tempo lo vediamo anche nella main, adesso mi sfuggono gli attori comunque, sono attori comunque di cinema leggero, quindi che da questo punto di vista favino, favino per dire appunto ci sono una serie di attori che hanno una loro provenienza dalla commedia, però in questo senso vengono fatti, vengono adattati in maniera molto molto precisa e molto molto seriosa. Ecco quindi come negli ultimi venti anni la cinematografia sulla seconda guerra mondiale ha dato un amplissimo spettro di narrazioni, di sviluppi narrativi che poi hanno un po' rimescolato le carte, perché abbiamo Tarantino con un pastisce come il Bastardi senza gloria dove c'è tutto il contrario di tutto, ma film anche seriosi di ricostruzione e in questo senso, e qui chiudo il video, secondo me una cosa interessante è analizzare i film britannici degli ultimi dieci anni. Nei film britannici degli ultimi dieci anni pensiamo a L'ora più buia, Dunkirk, Una notte con la regina, Il discorso del re, mostrano una certa tendenza britannica a affrancarsi, a riproporre la Gran Bretagna come centro del mondo. Sappiamo una seconda guerra mondiale, nonostante la Gran Bretagna fosse rimasta l'unica per almeno un anno, dal giugno del 40 al giugno del 41, l'unica potenza che si opponeva ai tedeschi e agli italiani, ebbene alla fine della guerra esce perdente sostanzialmente, arriva al terzo gradito del podio dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi la Gran Bretagna negli ultimi anni anche per uno sciovinismo rigenerato che è portato per esempio alla Brexit ha bisogno secondo me di questi film per rinnovare la propria potenza, per ribilanciare, per dire anche noi abbiamo contribuito, anche noi abbiamo dato il nostro peso nella seconda guerra mondiale e se non fosse per noi i tedeschi nel 40 avrebbero creato o avrebbero fatto una pace di compromesso e non si sa come sarebbe andata a finire. Ecco quindi come la storia del cinema bellico della seconda guerra mondiale offre tante interpretazioni, tanti spaccati diversi che negli anni hanno dato valido a interpretazioni, quando più leggere, quando più impegnate, quando di parte, quando più oneste possibile, però appunto che hanno dato un contributo nell'analisi e nella descrizione di questo evento così drammatico. Io sono stato inevitabilmente molto conciso, non sono riuscito poi a darvi magari degli indizi sui film, appunto io nel libro ne parlo, ma magari se ho tempo, se questo video avrà successo, magari farò dei video più specifici su ciascuno di questi micro settori della cinematografia sulla seconda guerra mondiale. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione che rivolgete ai miei video, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!